musica ragazzi buongiorno va bene ah no aspetta però ho trovato la lavagna dai aspetta no aspetta voglio trovare la lavagna e poi ti faccio aprire il pacchetto e dai forza regà, ciao Tati bella regà oh eccola eccola vediamo un po' chi mi da francese cdc questo è ma tutti guarda eh Pogba cante oh cante golo 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 in golo golo in golo golo in golo golo in golo al prossimo pack forza regà lasciate un like forza allora luce inglese guardi 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 ma è king oh 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 e andiamo così dai vediamo se tieni questa fit positiva di giocatori walk out siamo a napoli sei tu che regni qua tanto non tieni la fit positiva guarda esce il pacchetto due o marzo ha scritto guarda andrea 88 87 no non riesce lui guarda chi è? navas ah no navas è buono 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 e nessuno li sta avendo poverito orco orco 2 ooo marcelo nooo aleksandro alexandro 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 mare mare la 5k la från col naso raga lasciate un mi piace che ha 2000 like guarda non succede niente non stai facendo oh due guardi secondo me pacchetti dalle 5 milioni spagna? bello si va giù inizio il maestro il fantasi illusionista mille like secondo me i dati di me oh disco sono migliori ti sapete perchè? ma io voglio vedere differenze si ma la raga mi dico una cosa guarda qual'è la differenza standard 3 oggetti, 3 giocatori, non scambiabili più orari no la 3 giocatori qua 5 allora ragazzi 2.000 mi piace icona garantita l'apriamo 3 2 1 e ti passo giochi vai forza ragazzi no ha trovato di bala anche io lo voglio Argentina tg oh è buono questo 8 amendi 8 amendi 94 amendi 86 ancora i crediti porco demonio basta con i crediti no edinson GONKAFAMI Dattiva ma puoi guardare Con i credit li ho aperto Hai visto? Dai 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 Mi piace questa streametta Questo è un bug E' un bug poi me lo ripassa meglio Guarda Guarda Oh 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 O TATINO 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 Ne potrai usufruire nel mondiale Grazie Grazie sono orgoglioso di te io ho sempre creduto in te grande chi l'ha aperto il pacchetto? io io l'ho passata all'occhio allora fa purtomu ma ti capite qual è la tecnica? era anti-orario no io pure a un marzo ti capite cosa facerli qua? arathbub ti capite un stile? 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 ti capite un strano oì colpo di minchia va mi espatti la devi passermela a me che schifo ci ho avuto in tre andatut Maßnahmen no no sé se sé no non l'ho mai visto su FIFA 18 guarda qua Toni Duboregna da King of FIFA io schiaccio un logo in prima l'ha buggato Maradou 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 è meglio Maradou è meglio Brasile Brasile è buonissimo è bellissimo è nuovo è sul bello poteva andare meglio poteva andare meglio devi trovare il 90 iscrivetevi mi raccomando forza raga lasciate un mi piace se non avete ancora lasciati iscrivetevi tutti allora va forza dai Maradou Maradou Madonna! Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. Leina. www. habilitas.com Ma noi c'è piano Menadore. Che disegno non la rom Ulk Ma che Brasileano è poi magari Ma magari faccio Ibrida vedrò un po' come fare Anche un po', dai! se riesco C'è C, Ozil Ozil Buono, buono, buono Ah ragazzi arriviamo al 114 mila forza E' vero c'ho quadrato Ha ragione Ignazi c'ho quadrato C'ho quadrato, falle europea No com'è? C'ho Neymar Come falle europea? E' un po' Resco ancora Bc Umbers, 90 umbers Buono Buono Due super walkout Suso Ma Suso non è sudamericano Di qualità però Messi 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 Tori auguri Sì Ma dobbiamo esultare Eeeh Vai Vai Sì Vai Guarda ma Guarda ma Guarda ma Sono già tre mesi Che mi ho fidanzato Ah Un buon termine Eccolo l'hai chiamato Kevin Prince Ok Come è che dico Gerome Gerome Esplodi Evviva Turin E la squadra Juventus Sì Danilo Alves Sembra Non ce l'iamo Ma come ti ha tradito Ti ha tradito Andando nel PSG Lui ti ha tradito Eh Hai fatto domande che non andavano Eeeh Mi spiace Matteo Hai detto No me che non mi dirai che non mi dirai 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 Bravo 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 Banna Banna tutto Sei di numero 1 Oh master Grazie Ma quale è il numero 1 Oh Dechera Mi mancava la collezione Dechera Dechera Guarda come arriva Pesco Precio No i saluti sono fiero Solo perchè hai girato in due ospitale l'ha per lì E' la mia mamma è che dietro ospitale l'ha per lì Forza Guarda io veramente C'è una cosa che non perdonerò mai a mia mamma E' che mi ha partorito nell'ospedale l'ha per lì C'era pure quello Si C'era di Maradona Guarda Followato su Twitch Dai ragazzi Ah faccio il cambio arriva almeno 100.000 follower su Twitch Ah Camerano aderghetto No Aderghetto però Ma hai contato anche le Twitch? Ma io voglio di Modric Modric Che gran culo che hai Ma dimmi il culo ce l'hai Non hai capito che il mondo è fatto pure di noi Che siamo tutti Piccoli Youtuber Ma ciao Rappelentone Ehm Toni salutami ti prego No non posso Toni fa burro Non posso Toni ma quando diventi come Toni del genere suo? Suarez Suarez Siiii Suarez 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 No ma non è questa ragazzi No dalla c'è voglia i miei carabini Esplodere Ciccione E si sicco tu Mimo cazzo Grazie Mi sono siciliano Pico Amore Icona Icona Toni scartiamo da allora siamo in 1100 spettatori si superano i 1100 like la scartiamo dai devono mettere tutti i like diciamo che fa un po schifo sta squadra c'è Paolo Bononis che sistema per le cose con lo schifo sta squadra solamente i modrici toni no non posso dire quindi ragazzi lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al notizio da noi è tutto ultimo ci vediamo su un prossimo video bella ragazza